Sicuramente, a differenza della partita di ieri, abbiamo un approccio diverso. Abbiamo giocato abbastanza bene. La cosa più importante è che abbiamo lottato. Abbiamo dimostrato di aver voglia di vincere. Abbiamo superato in molte volte anche praticamente, che era la cosa più importante. Durante anche il lavoro buono che stiamo facendo in questi stiti, stiamo parlando di portati. Speriamo di continuare così e speriamo di vincere domani e di vincere bene.